Pre partita non è stato un po' come al solito, però ho cercato di resettare tutto e cercare di pensare solo al Pisa. Ho cercato di dare il mio meglio. Cambiati, sicuramente c'è un tridente un po' dinamico, anche per mettere in difficoltà gli altri, per dare meno punti di riferimento, magari anche a volte per generosità cerco di aiutare la squadra, di dare una soluzione in più, di comunque entrare subito nello spirito di questa squadra, che un po' mi appartiene. Non so, per come sarà messa forse siamo stati liberi a pareggiarla, però credo che, non so come l'avete vista voi da fuori, però da dentro penso che ai punti forse meritano qualcosa in più noi, soprattutto per la mole di gioco espressa nella fase centrale del primo tempo in cui l'abbiamo messa in giro, in due o tre occasioni nitide, cross, palle inattive, forse era lì che dovevamo e dovevo, dovevamo fare gol per sbloccare la partita e non metterla su un binario, cioè comunque perché ci facesse affrontare con meno difficoltà. Secondo me, comunque alla fine è una settimana che sono qui, a me piace giocare con gli altri, piace giocare per gli altri. Sono uno altruista, pensa prima al gruppo, quindi credo che possa solo migliorare questa intesa fra tutti, comunque c'è la disponibilità veramente di un gruppo molto unito.